allora buon pomeriggio sono marco vigellini e sono contento di aver avuto questa possibilità per raccontarvi le le mie esperienze di utilizzo di questo strumento dalle infinite potenzialità che è minecraft vi anticipo che la parte da qui a circa 40 minuti è stata registrata per permettermi di trasmettervi dei contenuti diciamo in maniera più efficace vi farò vedere anche il lo strumento minecraft in esecuzione mi sono segnato un appunto dicendo che verso la fine vedrete una una sorta di sperimentazione molto semplice con la realtà aumentata e lo schermo particolare che vedrete non l'ho specificato nel video ma è il mio il mio cellulare detto questo io penso che possiamo anche iniziare con il con il webinar e ci sentiamo più tardi per le le vostre domande a dopo allora benvenuti e buon pomeriggio stiamo iniziando il webinar denominato la creatività di minecraft in classe io ringrazio rizzoli e campus store per avermi dato la ospitalità e per poter raccontare la mia esperienza didattica avvenuta con questo strumento dalle infinite potenzialità che è minecraft e questa prima parte è registrata perché vi farò vedere anche il funzionamento di minecraft attraverso lo strumento e quindi per ottimizzare la la vostra possibilità di vedere opportunamente il videogioco in esecuzione sul mio computer la stiamo registrando mi connetterò in real time come si dice verso la fine pronto per rispondere alle vostre domande prima di iniziare vi chiedo una breve ma importante riflessione di circa 10 secondi cosa vi viene in mente intendo a livello emotivo a livello di sensazioni cosa cosa vi trasmette la parola che adesso sono in 100% di dire e avete 10 secondi per raccogliere queste emozioni e poi trascrivetele nella chat perché su queste anche alla fine del webinar e ragioneremo la parola che vi dico e su cui vi invito a riflettere è videogioco 10 secondi da adesso e 10 secondi sono passati allora iniziamo la presentazione e trascrivete queste queste sensazioni che vi trasmette la parola videogioco nella chat e andiamo avanti con la presentazione prima di iniziare in maniera approfondita la tematica che sono in procinto di raccontarvi voglio parlare di numeri e fatti partiamo da linkedin linkedin è il social network dei professionisti dove i datori di lavoro pubblicano delle ricerche di personale e dove le persone in cerca di lavoro comunque in genere i professionisti caricano i propri il proprio curriculum e in cerca di nuove opportunità lavorative avendo a disposizione tutte queste informazioni ad un certo punto linkedin ha tirato fuori una reportistica nel 2013 dei 10 lavori più richiesti 5 su 10 richiedono forti competenze di programmazione e 9 anni prima questi lavori più richiesti non esistevano soltanto un anno dopo 2014 di 10 lavori più richiesti 8 su 10 richiedono forti competenze di programmazione e 5 anni prima non esistevano un ragazzo che sta entrando oggi nel liceo sta studiando per dei lavori che devono essere inventati 2016 dei 25 lavori più richiesti soltanto gli ultimi due non richiedono forti competenze di programmazione 2018 quest'anno ho avuto difficoltà a individuare tra i 25 lavori più richiesti quello che non richiede competenze di programmazione probabilmente ce n'è uno e fonte dati più di 520 milioni di profili analizzati andiamo avanti con la prossima slide nel 2015 il world economic forum ha pubblicato un altro report interessante relativo alle soft skill che una persona dovrebbe avere nel 2020 per avere successo e la capacità di risolvere problemi complessi la tecnologia facilita la nostra vita ma qualche volta ce la complica la capacità di risolvere problemi complessi e una delle soft skill richieste nel 2020 il mondo del lavoro cercherà persone che sappiano distinguere e comprendere quando si usa o si abusa della tecnologia e quindi persone che abbiano un pensiero critico siamo bombardati letteralmente ogni giorno di nuovi prodotti ma come possiamo creare noi nuovi prodotti nuovi servizi se non sappiamo pensare fuori dagli schemi se non siamo capaci di essere creativi i robot i saranno sempre più presenti nel nella nostra vita ma non avranno mai la capacità di sostituire l'uomo nella gestione dei rapporti e nella gestione delle persone ed infine ci sarà sempre la necessità di coordinare queste persone e collaborare con con loro ecco personalmente almeno queste caratteristiche e competenze le ho trovate nello strumento che andremo oggi a a vedere però sia chiaro a tutti che siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale nel 1997 seymour papert matematico e informatico pedagogista e promotore del primo laboratorio di intelligenza artificiale al mt il secolo scorso nel 1997 asseriva che gli insegnanti avrebbero dovuto insegnare ai ragazzi come imparare quando necessario sperimentando giocando e fallendo riprovando e diceva che gli studenti che aveva in classe non avrebbero svolto i lavori dei loro genitori una volta divenuti adulti in quello stesso periodo chiunque altro avrebbe potuto dire ok questa è la tua visione ma non è vera e non sarà così facciamo ora dal 1997 un bel ritorno al al futuro e ricordiamo soltanto i numeri del report di linkedin basando l'analisi su questo su quei soli numeri abbiamo una chiara visione di dove sta andando il mondo ed essere confidenti con le nuove tecnologie è ormai una competenza di base ripeto di base significa che se i nostri ragazzi oggi li proiettassimo nel nel futuro a vent'anni e venticinque anni alla ricerca di lavoro potremmo fare questa riflessione cosa succede se a quell'età non sapessero né leggere e né scrivere sarebbe un enorme problema e non essere confidenti con le nuove tecnologie significa avere lo stesso problema la tecnologia è dappertutto e come ogni rivoluzione la quarta rivoluzione industriale porta con sé opportunità e rischi se non sei capace di cogliere le opportunità in mano ti rimangono solo i rischi non puoi fermare il vento con con le mani per questo mi piace questa immagine che vedete proiettata sul sullo schermo la tecnologia non si ferma perché a noi non piace noi dobbiamo essere in grado di accompagnare i nostri ragazzi nell'acquisizione di competenze basate sulle nuove tecnologie perché ripeto la tecnologia non si ferma perché a noi non piace da questa slide vedo che è giunto il tempo di presentarmi posso incominciare a parlarvi della mia vita da quando sono nato ma ve lo risparmio e vado alla slide successiva vivo in una piccola cittadina sud di firenze e ad essere sincero ad essere onesto abbastanza distante da firenze e comunque sia questa immagine non è la città di firenze ma è la città di firenze interamente ricostruita in minecraft blocco dopo blocco se vi sforzate ad individuare le finestre queste in generale sono composte da quattro o sei blocchi non vi intimorite perché non dovete necessariamente costruire queste città voi ed i vostri ragazzi anzi in questo caso la città di firenze come molti altri mondi sono interamente scaricabili online personalizzabili e modificabili in questo caso questo mondo mi è stato commissionato dal museo 900 di firenze probabilmente è meglio dire che io abito a nord di roma questa immagine rappresenta un mondo minecraft realizzato per una sessione educativa per bambini insegnanti e genitori in un evento di gaming promosso dall'istituto luce cine città di fatti qui potete riconoscere il movie set di ben hur finalmente posso presentarmi mi chiamo marco vigellini con la mia società mi occupo di minecraft a 360 gradi sul sito maker camp potete trovare alcune esperienze di progettualità svolte con minecraft per bandipone per esempio sono formatore per campus store tra i pochi italiani all'epoca eravamo in tre ad aver seguito il primo MOOC dell'MT su scratch parecchio tempo fa ho personalmente finanziato intendo economicamente lo sviluppo dell'app per tablet scratch junior in alto a sinistra mia figlia nel 2014 mentre suonava l'inno alla gioia con la makey makey al parlamento europeo nell'altra immagine gennaio 2018 sono al bet di londra la più importante manifestazione sulle tecnologie educative in Europa a condurre dei laboratori minecraft per insegnanti se avete voglia di seguire quello che faccio nella scuola con minecraft mandatemi tranquillamente una richiesta di amicizia su facebook come ho scoperto minecraft circa cinque anni fa ho cominciato a condurre gratuitamente dei laboratori di informatica creativa per ragazzi sul territorio laziale la maestra di mia figlia venendo a sapere di queste iniziative trovo delle validissime argomentazioni per ricevere il mio supporto tecnico all'interno della sua classe mi disse sorridendo se non vieni ad aiutare l'intera classe posso valutare di pensare di bocciare tua figlia vada a sé che non ebbi modo di dire di no ed entrai nella scuola stando a scuola ci accorgemo che tutti i bambini parlavano in continuazione di minecraft e ci siamo chiesti individuandone da subito le potenzialità dello strumento perché non proviamo ad utilizzarlo come strumento didattico lì fuori ci sono tantissimi validi strumenti che possono sostenere la crescita delle competenze tecniche dei nostri ragazzi oggi parleremo anche di coding e a me viene in mente scratch come valido strumento ma se parlassi di VR realtà virtuale ho necessità di individuare un altro strumento non può essere scratch modellazione 3D un altro strumento stampa 3D un altro strumento ancora robotica stessa problematica e se parlassi di storytelling devo trovare altri strumenti che mi permettono di creare delle storie con personaggi devo dedicare del tempo a questa ricerca e questi strumenti li dovete prima valutare come opportuni poi impararli e successivamente calarli nella vostra didattica è ogni volta necessario compiere questo sforzo realtà aumentata? tanti musei stanno utilizzando la realtà aumentata per emozionare ed arricchire il visitatore di una nuova esperienza esistono delle app educative che interpongono tra il cellulare ed un tavolino per esempio un bel dinosauro ma vi faccio questa domanda chi ha realizzato quel dinosauro? non certo i vostri ragazzi nella stragrande maggioranza dei casi non sono i vostri ragazzi a creare quei modelli tridimensionali che vengono utilizzati per le app di realtà aumentata cosa succede poi nel giro di poco tempo, di un anno per esempio? la vostra app è stata soppiantata da un'altra che integra un nuovo tipo di soluzione e una nuova funzionalità oppure lo sviluppo della vostra app è stato abbandonato oppure ancora per alcune caratteristiche specifiche della vostra app preferita quelle caratteristiche sono divenute giustamente a pagamento questa era la stessa situazione in cui mi trovavo io 5 anni fa strumenti differenti per età differenti infanzia, primaria, secondaria, primo e secondo grado strumenti differenti per tematiche differenti app per la scienza, app per il coding, app per la storia eccetera e per differenti metodologie di insegnamenti per generi differenti per maschietti, per femminucce strumenti differenti per competenze differenti quando ho incontrato minecraft ho finalmente potuto dire questo è lo strumento che stavo cercando perché attorno a minecraft posso far ruotare tutte quelle attività che richiedono strumenti differenti minecraft è un tale concentratore di attività che diversi strumenti esterni hanno deciso di volersi interfacciare proprio con minecraft e apro una brevissima ma significativa parentesi minecraft è il videogioco per pc più venduto al mondo e tantissimi ragazzi già lo conoscono provate se siete curiosi domani mattina a pronunciare la parola minecraft nella vostra classe e guardate la reazione dei ragazzi tantissimi ragazzi già lo conoscono proprio come fortnite un altro videogioco molto attuale ed uscito di recente fortnite è un videogioco gratuito e ci giocano 70 milioni di utenti al mese minecraft che ha quasi 10 anni di vita è a pagamento ed è giocato da 92 milioni di utenti al mese avete presente i lego? immaginate di avere infiniti mattoncini con infinite potenzialità e di darle a tutti i vostri ragazzi mi è capitato di fare formazione per insegnanti all'estero su minecraft Irlanda, Inghilterra, Romania proprio di recente Stati Uniti d'America questa slide è e sarà sempre presente nelle mie presentazioni bambini che giocano sono bambini coinvolti e bambini coinvolti sono bambini che imparano e se riusciamo a coinvolgerli tutti è meglio minecraft è universalmente riconosciuto come gioco inclusivo di genere riuscendo a coinvolgere allo stesso modo sia i maschietti che e lo sottolineo le nostre femminucce come introdurre minecraft in classe? uno dei modi migliori per farlo è semplicemente quello di capovolgere la classe proprio con minecraft l'insegnante continua a condurre la propria lezione classica ma chiede ai ragazzi di andare a casa e creare un mondo minecraft inerente proprio ai contenuti della lezione stessa nel momento in cui sono loro a dover creare un mondo sulla base di quanto appreso in classe succedono almeno due cose approfondiscono e mettono in pratica rispetto alla loro immaginazione le conoscenze apprese e secondo si mettono nei panni di chi dovrà imparare attraverso il loro mondo e quindi devono fornire indicazioni chiare ed essere coerenti con la logica di funzionamento immaginato se apri una porta succede questo se metti un blocco succede quest'altro tutto deve essere coerente in base a ciò che vogliono rappresentare vediamo alcuni semplici esempi questo mondo minecraft che vedete è la riproduzione di un ambiente scolastico innovativo basato proprio sugli strumenti che mette a disposizione Campus Store mi spiace che all'epoca non era ancora uscito il libro Laboratorio Fab Lab eccolo per un nuovo curriculum di tecnologia che è stato redatto a sei mani insieme alle bravissime Anna Mancuso e Tuglia Urschitz che saluto ed edito da Rizzoli dicevo mi dispiace che all'epoca non fosse uscito questo libro perché avrei provato ad inserirlo comunque in questo mondo minecraft scolastico che in fondo a destra è dotato anche di green screen in alto a sinistra trovate le coordinate minecraft in questo caso meno 90, 27 e 123 x, y e z minecraft è un ambiente tridimensionale i ragazzi possono allora sfruttare quei numeri per creare per esempio una caccia al tesoro o di orienteering in questo caso potrebbero chiedere al giocatore di risolvere alcuni problemi di matematica per poter andare alla missione successiva x uguale 10 meno 100 y uguale 3 per 9 e z uguale 100 più 20 più 3 al centro ci sono invece 3 blocchi due rossi ed uno giallo chi ha ideato questo mondo può chiedere per esempio al giocatore che lo visita di scattare delle foto con la fotocamera che mette a disposizione minecraft e scrivere nella didascalia di tale foto la frazione individuata in questo caso i blocchi rossi sono due terzi dell'intera struttura e quello giallo un terzo in minecraft è possibile condurre esperimenti che simulano la vera scienza quella reale con il costruttore di elementi questo qui che vedete è possibile combinare protoni elettroni e neutroni in modo da formare tutti gli atomi presenti nella tavola periodica compresi gli isotopi stabili in questo caso vedete due protoni due neutroni e due elettroni formare un atomo di elio il creatore di composti questo in basso permette di aggregare secondo le formule appropriate gli atomi ed ottenere appunto dei composti attraverso il tavolo del laboratorio questo qui è possibile mescolare i composti creati in precedenza e vedere se è possibile ottenere dei nuovi materiali o oggetti alcune volte il risultato è una simpatica e piccola nuvola nera di fumo ad indicare che l'esperimento è fallito ma tanto i ragazzi sono pronti per provare le altre combinazioni il riduttore di materiali funziona con una logica invertita ho un blocco e mi scompone quel blocco sulla base degli atomi che lo compongono immaginate allora una caccia al tesoro in cui i ragazzi devono trovare degli oggetti e di indicare quali tra questi contengono ossigeno la sabbia in questo caso ci dice che è formata da silicio ed ossigeno è possibile fare anche un viaggio indietro nel nel tempo con minecraft tutta la classe al rapporto da cleopatra nel mondo degli antichi egizi entrare nel partenone in grecia e parlare con aristotele e scoprire per esempio la nascita delle olimpiadi incontrare per le strade dell'antica roma un tizio che va in giro con un coltello in mano dicendo di dover tutelare la repubblica di roma oppure entrare nell'antica babilonia attraverso la porta di ishtar ed incontrare ammurabi mentre redige la sua raccolta di leggi il primo esempio di leggi scritte nella storia minecraft abbiamo detto è un ambiente tridimensionale autodesk società che produce il software per architetti di ingegneri autogad si è accorta di minecraft ed il suo software oltre ad esportare il proprio modello in un formato pronto per essere dato in passo ad una stampante tridimensionale permette anche di esportarlo in formato minecraft e così all'interno di minecraft possiamo inserire proprio questi modelli dentro minecraft da minecraft è possibile esportare facilmente le proprie costruzioni darle in passo ad una stampante 3d e passare così dal virtuale al fisico e mentre modellare attraverso un software di modellazione 3d non è immediato utilizzare minecraft lo è qui vedete una idea di co-progettazione che abbiamo adottato in una scuola i ragazzi di scuola media hanno intervistato quelli dell'infanzia e di scuola elementare chiedendogli di cosa avessero bisogno nelle loro classi tra le risposte ricevute c'era il portacancellino i ragazzi lo hanno creato in minecraft ed esportato e stampato in 3d quindi ragazzi che migliorano la propria scuola ricordatevi poi di questo portacancellino più avanti in stile ironman l'esperienza mi insegna che la didattica di tipo project based learning ben si sposa con minecraft perché i ragazzi possono approfondire a casa lavorano collaborativemente e le classi hanno molto più tempo su cui diluire l'impegno qui vedete alcuni progetti sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite tra cui parità di genere, energie rinnovabili, città e comunità sostenibili ed inclusive oggi siamo in ambito scolastico qui in questo webinar e se vi dicessi che alcuni musei stanno utilizzando il coinvolgimento legato a minecraft per veicolare i propri contenuti in alto a sinistra il progetto realizzato per il museo 900 di Firenze in basso a destra minecraft utilizzato per il museo latrinale di Milano vediamo se riesco a sintetizzare un progetto che non ha eguali in Italia raffaello in minecraft progetto sostenuto dalla galleria nazionale delle marche si sono appena poche settimane fa concluse le iscrizioni sono più di 100 le scuole coinvolte in questo progetto che solo con la loro iscrizione hanno ricevuto gratuitamente licenze minecraft per l'intera classe le scuole partendo dalla città di urbino in cui ha vissuto i primi 100 anni della sua vita il giovane raffaello qui vedete la città di urbino ricostruita da me dovranno creare delle loro storie con minecraft e queste storie qualora selezionate faranno parte sotto forma di prodotto digitale della collezione permanente che si sta allestendo a palazzo ducale di urbino per il 5 centenario della morte del grande artista quindi partecipazione e vera restituzione verso il museo con la possibilità per i piccoli partecipanti di essere protagonisti come espositori come artisti in un vero museo con cosa con minecraft come proverò a mostrarvelo tra un po' altri 5 minuti di pazienza se avete voglia di partecipare a progetti analoghi allora vi invito nuovamente a chiedermi l'amicizia su facebook perché lì solitamente comunico queste iniziative tendenzialmente vantaggiose per gli insegnanti e per le scuole prossimo progetto a cui ho dato supporto ed è prossimo all'avvio scusate la ripetizione anche con premi molto importanti per la classe è quello relativo all'innovativo museo M9 di Venezia Mestre un museo completamente multimediale che potete vedere ricostruito nell'immagine qui in alto a destra qui in questa slide non ha trovato spazio il progetto molto importante della città di Modena che ha coinvolto tutti gli istituti comprensivi della città ed ha visto impegnati i bambini nel costruire le proprie storie a scuola durante l'estate eccoci finalmente ad una breve panoramica sul coding che approfondiremo operativamente tra un po' spero che tanti di voi abbiano cominciato ad introdurre il coding nella propria classe Scratch probabilmente è lo strumento anche più utilizzato avete il vostro sprite e lo spostate in alto, in basso, a destra e a sinistra ma vi faccio anche una domanda come fate a farlo venire verso di voi? intendo nella direzione fuori dallo schermo oppure come fate a mandarlo lontano da voi nella direzione opposta nella direzione dentro lo schermo Scratch è un ambiente bidimensionale ecco perché proprio Scratch si interfaccia a Minecraft e non viceversa e permette di dare istruzione ad un robottino che si muove proprio in un ambiente tridimensionale e il robottino può andare in avanti, indietro, a destra, a sinistra, in alto e in basso ma vedremo mille cose in più che si possono fare con il coding in Minecraft non solo legate a questo robottino in questa slide in basso a sinistra vedete dei blocchi visuali in alto, a sinistra, un quadro di Frank Stella ma avreste potuto utilizzare i quadri di Mondrian o di Cli che ben si pressano ad essere rappresentati in Minecraft e dal centro ciò che ha creato, in questo caso, il robottino in base alle istruzioni che ha ricevuto non vi anticipo altro sul coding perché vedremo il tutto in azione tra poco in verità, adesso allora, vediamo Minecraft Education Edition in azione allora, tanto di quello che non potrete vedere in questo webinar lo trovate sul mio canale YouTube accessibile tramite il link bit.ly slash marcovigelini sono tante le informazioni su Minecraft e ho creato questo canale per rendervele disponibili questa è l'interfaccia in impostazioni se andate in lingua potete cambiare l'inglese in italiano questi altri pulsanti servono per scaricare delle lezioni e quella che vedremo, Flufflettopolis, l'ho presa da quelle raccolte e l'ho modificata perché tutti i mondi Minecraft sono modificabili io ho preparato delle lezioni, diciamo, delle stazioni di coding e adesso sto volando e ve le faccio vedere più o meno velocemente questi personaggi che vedete intorno li ho posizionati io il testo che vedete scritto è stato creato da me si può quindi creare del testo e delle indicazioni questo personaggio mi dice che devo prendere il mio robottino e posizionarlo su questo blocco giallo e deve compiere quattro passi in avanti fino ad arrivare al blocco verde premo il tasto C come vedete qua a sinistra ci sono delle indicazioni su come muoverci per attivare il coding devo premere il tasto C mi sono creato già del codice quello che vedete è tutto in italiano posso fare del zoom e spostare il tutto questa rotellina serve per cambiare la vostra lingua un blocco lo posso prendere e buttare in questi altri questi sono i tantissimi blocchi a disposizione questo io adesso lo cambio lo chiamo stazione 1 quindi mi sto creando un comando particolare che si chiama stazione 1 il mio robottino può eseguire tutte queste azioni in particolar modo so che mi serve spostare il robottino di 4 blocchi in avanti io adesso posso anche duplicare questi blocchi fino a metterne 4 oppure ne metto 2 che avanzano il mio robottino di 1 e l'ultimo blocco lo fa avanzare di 2 per un totale di 4 premo il tasto ESC torno su Minecraft premo il tasto T si avvia la chat dei comandi perché qui potrò dare il mio comando stazione 1 e il mio robottino lo esegue allora salto velocemente queste stazioni perché voglio arrivare a questa metto il robottino qui questa è la R ovviamente di Rizzoli e voglio che il mio robottino riesca a passare internamente ed esternamente a questa R vediamo i comandi premo la lettera C premo scusate la lettera C del coding e vado a vedere la stazione che mi permette di avanzare il mio robottino vediamo 6 volte ho scritto qui il comando cosa fa questo robottino va avanti di 2 si sposta su di 3 va indietro di 2 si sposta giù di 3 queste frecce mi permettono di spostare il robottino opportunamente questo comando ripeti è stato preso dei civili c'è un'associazione con i colori questi blu dal giocatore questi arancioni dal legend e così via cosa fa questo comando che ho chiamato R? torno in minecraft premendo la lettera e il tasto ESC accedo alla chat dei comandi premo R e vediamo cosa esegue il mio robottino come vedete in un ambiente tridimensionale il mio robottino può muoversi in tutte le direzioni vediamo quest'altra quest'altro comando in questo caso il robottino deve salire di 7 e posizionare una scala il mio robottino ha in questa slot il numero 1 2 3 4 5 6 7 8 nel decimo slot ha le scale vediamo il comando adesso lo facciamo insieme questo allora sposto un po' tutto per farmi spazio e faccio il comando scalette scaletta ok perfetto allora il mio agente innanzitutto deve ruotare a sinistra due volte perché mi stava guardando poi l'agente deve attivare vediamo dov'è lo slot attivare lo slot numero 10 che so che lui ha le scale poi posiziona l'agente davanti a sé non indietro ma davanti avanti avanti l'oggetto e sale di 1 su e questa azione la deve ripetere sette volte mi sembra sette volte allora diminuiamo la schermata e comando scaletta sinistra sinistra attiva lo slot 10 per sette volte posiziona avanti l'oggetto selezionato e poi si sposta su esc scaletta invio ed ecco che ci ha creato queste scale ora molto velocemente ho scomposto un problema in questo caso gli faccio creare una linea dalla linea se la linea mi completa la linea e per quattro volte gira a sinistra lui mi completa un quadrato se questo quadrato al complemento del quadrato lo faccio andare in alto di uno e mi ripete la stessa azione lui mi riesce a costruire una sorta di cubo vuoto in questo caso vediamo adesso come ho modificato il tutto permettendo alla gente di selezionare anche a caso dei blocchi che lui ha a disposizione vi faccio anche vedere il codice c diminuisco il la visuale così cerco di individuare qual è e questo come vedete il comando casa ripete per quattro volte il comando quadrato il comando quadrato è questo che per quattro volte ripete il comando linea il comando linea semplicemente porta per quattro volte avanti l'agente e casualmente sceglie uno degli slot dell'agent allora eseguo in minecraft esc questo comando casa ti casa invio e osservo quello che crea l'agent una sorta di cubo di casa in stile cli con blocchi casuali adesso vediamo che completa il tutto quarto step nel frattempo io accedo alla chat dei all'interfaccia dei comandi e voglio farvi vedere quest'altro codice quando arriva il comando ho messo sf gialla sfera gialla posso far costruire una sfera con i blocchi che voglio con un centro che in cui decido io in questo caso dalla mia posizione con raggio 5 andiamo ad eseguirlo comando t sfera gialla invio e qualcuno che non è neanche l'agent mi sta costruendo una sfera gialla come potete vedere io posso interagire con tutto l'ambiente minecraft non soltanto con un agente vi faccio vedere l'ultimo esempio che è relativo a questo codice qui ho utilizzato una variabile vediamo se lo riesco a trovare ho creato una variabile l'ho chiamata conta questa variabile l'ho chiamata conta e quando il giocatore cammina accovacciato l'ha imposta ad 1 e dice ok le frecce scagliate sono 0 scusate l'ha imposta a 0 e sono 0 quando scocco una freccia quindi quando fa un'azione il mio personaggio mi dice quante frecce ho scagliato tasto ESC prendo in mano il mio arco anzi prima cammino cammino accovacciato però aspettate ok e mi dice frecce scagliate 0 quando io scaglio le frecce mi dice 1 2 3 4 5 e 6 e come potete vedere in minecraft c ci sono tantissime azioni che possono essere fatte ve ne faccio vedere l'ultima molto velocemente quando il giocatore cammina creature faccio generare un pollo in questo caso ok x y e z la y è la verticale quindi sopra di me io quando cammino faccio generare delle galline cosa avrei potuto fare c invece di generare le galline prendo dei blocchi e posiziono a terra per esempio dei fiori ESC cammino cosa succede dietro di me posiziono dei fiori ora vi faccio vedere un'altra cosa che si può fare con minecraft adesso vi faccio vedere un'altra potenzialità di minecraft vi ricordate quando vi ho parlato del famoso portacancellino e della possibilità di esportare oggetti in minecraft io l'ho già selezionato e lo posso esportare così come ho fatto con questi oggetti questo che vi faccio vedere è anche legato alla progettualità che stiamo portando avanti con la galleria nazionale delle Marche e con il progetto Raffaello in minecraft vediamo se riesco a far partire il visualizzatore 3D ok questo oggetto non l'ho fatto sicuramente io e difficilmente credo che sia facilmente realizzabile dai vostri ragazzi ma se io aprissi per esempio il nostro portacancellino ecco questo è fatto sicuramente dai nostri ragazzi se io aprissi quest'altro oggetto ecco questo fa parte del mondo della città di Firenze e questi oggetti noi possiamo darli in pasto ad una stampante tridimensionale ora vi mostro anche come utilizzare questi oggetti creati dai ragazzi con delle app di realtà aumentata seleziono il mio modello individuo un posto dove posizionare il mio modello e come vedete il modello è perfettamente integrato con il mio ambiente posso selezionarne anche un altro vado indietro e scelgo questo modello individuo nuovamente un posto dove posizionarlo ed ecco a voi che anche il nostro caro Babbo Natale è presente in questo momento di fronte a noi torno indietro e prendo un altro oggetto seleziono l'ultimo a disposizione individuo la posizione dove posizionare il battistero di San Giovanni ed eccolo qui presente davanti a noi in carne e blocchi immaginate dei progetti in cui i ragazzi pianificano delle attività al di fuori del corso nel contesto scolastico in un'ottica di rigenerazione urbana torniamo alle slide potrei continuare a parlare di Minecraft per altre 24 ore di come quattro anni fa avviai un progetto con scuole provenienti da tutto il mondo in cui i ragazzi esposero in un Louvre virtuale i lavoretti fisici realizzati a scuola e mostrati ai ragazzi di Australia, Giappone, Sud Africa e viceversa ovviamente Spagna, Inghilterra, Brasile, americani un professore mi scrisse Aloha from Maui ma siamo giunti alla fase finale di questo webinar approfitto allora per tornare alla riflessione iniziale legata alla parola videogioco ulteriori dati su cui riflettere ultimissimi avete presente il mondo del cinema e quello della musica ecco insieme messi insieme in termini di fatturato essi non fanno il mondo dei videogiochi pensate alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e pensate anche in termini del solo settore del videogioco completare un videogioco significa almeno aver letto un libro ci sono videogiochi che superano come quantità di testo libri come la tridogia del Signore degli Anelli giusto ieri Indire ha avviato una sperimentazione in un percorso formativo che arriverà fino a giugno 2019 con circa 200 scuole con Minecraft ovviamente a cui sto dando supporto insieme ad insegnanti che approfitto per salutare ciao Simonetta, ciao Monica, ciao Luca mi è già capiato di essere invitato a convegni su DSA ed in diverse occasioni papà, mamme, insegnanti mamme insegnanti mi hanno riferito di come questo strumento Minecraft riesca a far esprimere facilmente bambini con bisogni educativi speciali poche settimane fa a Torino e finalmente mi sono incontrato con un bambino con sindrome di Asperger la cui mamma mi aveva contattato via Facebook quasi un anno fa e ci siamo incontrati la settimana scorsa c'era anche la psicologa che segue il ragazzo e mi hanno raccontato le stesse cose di come il ragazzo si è cresciuto con Minecraft mi sto attivando per avviare una ricerca scientifica ed una sperimentazione medica a riguardo in America un papà autistico con figlio autistico che ho avuto il piacere di conoscere in America appunto ha creato una community di oltre 8000 persone che è cresciuta in tutti i sensi attraverso le potenzialità offerte da Minecraft che è stato già oggetto con successo di ricerca anche da parte dell'Università della California ora alla luce di quanto potuto ascoltare da me oggi mi chiedo chissà se riuscirete a valutare di prendere in considerazione l'utilizzo di Minecraft all'interno delle vostre classi magari partendo proprio dal libro edito da Rizzoli Laboratorio FabLab in cui oltre a bellissime attività di robotica, stampa 3D, elettronica trovate i miei progetti di coding e di cittadinanza digitale con Minecraft perfetto, via le domande spero che questa brevissima e sintetica introduzione perché è veramente una introduzione a Minecraft io vi avevo fatto una premessa che c'erano le io quando racconto di Minecraft parlo di creatività perché è veramente creatività allo stato puro tant'è che è per questo che i ragazzi lo hanno scelto come gioco come loro gioco di riferimento tempo reggio un po' per darvi il tempo di porre delle domande e ad alcune comincio a rispondere perché tanto so che verranno fatte quindi vi anticipo qualche indicazione domande su Minecraft tendenzialmente sono quelle del tipo con quali strumenti posso utilizzare Minecraft quali strumenti hardware ad oggi tutti i PC Windows 10 tutti i PC con sistema operativo Mac OS X ed iPad vi anticipo che si sta avviando una sperimentazione per tutto il vecchio software di Windows quindi 7, 8 e 8.1 le licenze che viaggiano con Minecraft possono essere utilizzate sia sui computer scolastici che sui computer dei vostri ragazzi che significa se voi avete l'opportunità di acquistare le licenze Minecraft facciamo 20 licenze Minecraft per un costo complessivo di circa 100 euro perché una licenza viene 4,20 euro credo senza IVA quindi arrotondiamo a 5 euro 20 postazioni sono circa 100 euro ecco, quei 100 euro possono essere utilizzate all'interno dei PC scolastici ma anche dai vostri ragazzi quando vanno a casa la versione Minecraft Education Edition costruisce un vero e proprio recinto intorno al perimetro scolastico i ragazzi dotati di licenze Minecraft al massimo possono connettersi fra di loro non si possono connettere con chiunque altro non si possono connettere con me che ho un altro tipo di utenza Minecraft Education Edition avete 20 licenze al massimo quei ragazzi possono connettersi fra di loro quindi è, diciamo, la sicurezza in primo piano bellissima domanda insegno spagnolo come potrei sfruttare Minecraft? noi l'abbiamo utilizzato anche in percorsi di inglese la cosa più semplice ci sono anche tra l'altro diverse lezioni fatte da un insegnante americano che insegna spagnolo se andate sul sito education.minecraft.net lì ci sono tante lezioni create da insegnanti per insegnanti mi viene in mente una corsa su un cavallo dove ci sono dei vivi queste domande possono essere poste in inglese o ovviamente in spagnolo il ragazzo deve, diciamo, imboccare la strada con il cartello che rivorta la scritta giusta però faccio sempre quella ad Anna Lisa che ha fatto questa domanda se tu provassi a dare Minecraft ai ragazzi ti darebbero loro la risposta potrebbero provare loro a darti la risposta su come sfruttare Minecraft con lo spagnolo riuscirebbero a crearti tante storie uno storytelling non so se ricordate quelle le stazioni iniziali del coding ecco quei personaggi ho scritto del testo in italiano quel testo è assolutamente editabile e lì i ragazzi possono creare da qualunque sono sicuro che c'è anche un mondo su Donkey Shot fatto anche da ragazzi spagnoli altra domanda prima di utilizzare Minecraft con gli alunni potrei farlo con code.org allora su code.org io intendo l'accesso quello via web e di Minecraft ha soltanto il nome perché se voi lì sostituisse Minecraft con no, la mano dove si vede è Minecraft con Frozen o con Angry Bird il risultato sarebbe lo stesso è ovvio che se parliamo di coding io vi dico sì diciamo anche l'unplugged va bene come soluzione per accompagnare i nostri ragazzi quindi la risposta è sì Minecraft per quello che ho visto io è un qualcosa che è veramente a 360 gradi io non vi ho fatto vedere video fatti a 360 gradi con Minecraft non vi ho portato strumenti che mi permettono che ho stampato con Minecraft ma le potenzialità sono veramente infinite comunque sì la risposta a Maria Luisa no se posso utilizzare Minecraft con gli alunni da code.org sì la versione questa il gioco la Education Edition quando parte il coding si interfaccia con quattro tipologie con Scratch tinker code.org che non è quella stessa cosa ma ha gli stessi blocchi per comandare all'interno Minecraft e poi MakeCode che è quello che vi ho fatto vedere che secondo me è quello più completo e vi dico una cosa su MakeCode ci sono anche soluzioni Arduino compatibili microbit compatibili cosa ho scoperto io fortunatamente in questi anni che una volta presa confidenza con lo strumento quando mi vengono date delle soluzioni in più con Minecraft tipo la chimica che l'anno scorso non c'era o tipo l'aggiornamento sull'acqua come vengono gestiti i pesci il corallo come cresce e una volta che me l'hanno rilasciato per me è un qualcosa in più io mi aspetto che fra quattro mesi uscirà un'integrazione sulla robotica quindi premo un pulsante sulla schedina microbit o su Arduino e mi si apre una porta in Minecraft o viceversa azione una leva su Minecraft e mi si accende un led sul microbit quando mi faranno questa integrazione io ce la avrò gratis perché lo strumento lo conosco e lo riesco ad utilizzare tranquillamente leggo un'altra domanda Elena vorrei utilizzare ma con un ragazzo mi rendo che non basta no assolutamente allora sì dove trovo altri spunti o corsi allora io lo ripeto il libro questo laboratorio FabLab c'è ci sono purtroppo due sole lezioni su Minecraft però vi mettono in condizione di vederlo per bene due sono un formatore Campus Store se vi serve diciamo un supporto potete fare richiesta a Campus Store tre nel mio canale YouTube che ripeto è bit.li psilon slash Marco Vigelini ma ripeto magari chiedetemi l'amicizia per vedere quello che faccio il canale YouTube ci sono quei ehm quei video tutorial per ehm per incominciare da soli quarto ultimo ma non per per ordine di importanza anzi i maggiori esperti ce li avete in classe e ho detto tutto quindi provate a a a a portare inizialmente lo strumento in in classe noi le prime volte lo facciamo con un solo computer sono soltanto tre le lezioni che vi servono per far digerire ai ragazzi che sta entrando uno strumento e non un videogioco quello che loro conoscono è quella la più grande difficoltà una volta che loro hanno ehm ehm compreso che è uno strumento didattico dalla quarta lezione poi vedrete che è molto più gestibile io oggi ero al eh ad una scuola eh di Roma al Pacinotti di Roma che è un istituto tecnico e stavamo facendo delle lezioni a dei liceali sul game design utilizzando Minecraft stessa cosa le prime tre lezioni eh avevano difficoltà perché lo riconoscono come come videogioco dalla quarta hanno cambiato passo e oggi c'era qualcuno che continuava a non voler fare eh ricreazione sono quasi aggiunto al al termine eh la in un'occasione in cui la l'insegnante di mia figlia portò i romani eh io arrivai un po' prima e loro non non stavano facendo eh ricreazione e al che mi dissi mi chiesi è normale che dei bambini saltino la ricreazione per eh video giocare e poi però mi si fece anche un'altra domanda mi dissi ma se li avessi visti in classe leggendo dei libri mi sarei fatto la stessa domanda ecco probabilmente non me la sarei fatta quella stessa domanda quindi Minecraft è un strumento altamente eh ingaggiante per i ragazzi saperlo somministrare ehm diciamo eh richiede la vostra ehm eh il vostro impegno per portare questo strumento eh sono le diciassette e trenta io credo che debba chiudere vediamo se nella chat mi mi dicono gli operatori se posso continuare oppure eh devo chiudere io immagino che questo webinar eh è registrato vi ringrazio per essere stati presenti a questo a questo webinar spero tanto che ci saranno altre occasioni per per raccontarmi questa di queste mie esperienze sì dobbiamo dobbiamo chiudere e vi ringrazio e a presto a con i i i Grazie a tutti.